Buonasera a tutti, così come è nata questa canzone voglio farvela ascoltare, semplice come quel giorno, lo scritto. Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che, se lei fossi stata un po' meno gelosa, un po' meno nervosa, un po' meno che, ma se io sei lei. Se noi avessimo dato all'amore la giusta importanza, l'impegno e il valore. Se noi amare vuol dire anche a volte annullarsi per dare qualcosa in più. Ma se io sei lei, se io sei lei, se io sei lei, adesso dove sei? Sotto quale cielo, pensi al tuo domani, sotto quale caldo suono, stai facendo bene l'amore. Sono contento, amare, amare e non fermarti, e non aver nessuna paura, e non cercarmi dentro a nessuno, se io sei lei. Se io, quando tutto finisce, c'è sempre, purtroppo, che chiude la porta, che invece sta male. Se lei, se lei, se lei, che ha sbagliato alla fine non conta, ma conta solo, che adesso io non so più chi sei. Sotto quale cielo, pensi al tuo domani, sotto quale caldo suono, stai facendo bene l'amore. Sono contento, amare, amare e non fermarti, e non aver nessuna paura, e non cercarmi dentro a nessuno, se io, se lei, ancora, se io sei lei, adesso dove sei? Ma sotto quale cielo, pensi al tuo domani, ma sotto quale caldo suono, stai facendo bene l'amore. Sono contento, sono contento, amare e non fermarti, e non avere mai nessuna paura, e non cercarmi mai dentro a nessuno, insieme, se io, di più, se lei, bellissimi. E adesso, adesso, con chi sei? Grazie! Grandissima! Biagio Antonacci! Emozionante come sempre, grande! Grazie Carlo, grazie Valessa! Ma ti devo dire, quanto, ma quanto, ma quanto tempo è passato! Ma quanto è bravo! Ma quanto è bravo, quanto è simpatico! Il 10 novembre uscirà il nuovo album di inediti di Biagio, questa è una bella data da ricordare. E in alcune città ha raddoppiato le date, quindi sta andando alla grande. Abbiamo già le pre-vendite che vanno molto bene, ho tanta voglia di andare nelle città dopo un po' di anni, e sono molto felice di condividere ancora una volta con voi questo fantastico momento. E noi felici che tu sia qua! Live per te! Grazie, grazie, lo dedichiamo al coraggio, lo dedichiamo al coraggio a questo premio, al coraggio di tutte le persone che continueranno a frequentare luoghi importanti, sereni, nonostante i cattivi che cercano di guastare le feste. A loro e a voi! Grazie Biagio! Ma quanto sei, guarda, ma quanto tempo!